La definizione di un percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale, PDTA, per il paziente obeso, il contributo dell'Istituto Opsologico Italiano. È il titolo del convegno scientifico che si è tenuto a Villa Caramora a Verbagna il 14 aprile 2018 e che si inserisce tra le iniziative per i 60 anni di attività dell'Istituto. Rappresenta il coronamento di anni di ricerca e di lavoro dei medici. L'Istituto Opsologico è un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico ed è l'unico istituto italiano che ha nel proprio ambito di riconoscimento la patologia endocrino-metabolica tra cui l'obesità è una delle principali malattie. Quindi il ruolo di Opsologico è un ruolo sicuramente di leader in questo settore sia per quanto riguarda la ricerca sull'obesità sia per quanto riguarda la cura dell'obesità nei suoi vari momenti dall'approccio preventivo, all'approccio ambulatoriale, all'approccio curativo sia nel momento acuto della malattia che nella sua riabilitazione. A Villa Caramora riflettori puntati sull'aggiornamento del PDTA sull'obesità. Che cos'è il PDTA? È un percorso di cura del paziente. Il paziente viene inserito all'interno di un programma di cura che come dicevo in precedenza parte dal momento dell'accoglienza a livello ambulatoriale la visita in ambulatorio, i successivi controlli fino ad arrivare, nell'ipotesi più gravi, al ricovero spedaliero. Ricovero spedaliero che può essere gestito esclusivamente all'interno di strutture a ciò dedicate con una specifica competenza nel trattamento della grave obesità. La prima sessione di lavori è stata dedicata alla collaborazione tra ASLA VCO e Auxologico nella sfida all'obesità. Perché è importante mettere più forze in campo? Perché nell'affrontare i problemi di questa complessità occorre recuperare tutte le risorse presenti sul territorio e quindi l'Istituto Auxologico Italiano è una risorsa importante che dà dei contributi in termini di operatori ma anche di ricercatori che sono fondamentali per affrontare in sinergia con gli specialisti dell'ASLA, con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e tutte le forze presenti sul territorio il contributo per poter risolvere un problema di questo portato. Perché la cura dell'obesità è così complessa? Perché si combinano tantissimi fattori eziopatogenetici, di manifestazione della malattia, di fattori sociali e ambientali che interagiscono in maniera non del tutto prevedibile, non del tutto codificabile e quindi quelli che sono gli esiti sono altrettanto imprevedibili e non codificabili. La cosa importante è che prendiamo atto di questa complessità e riusciamo a gestirla in maniera altrettanto complessa. Gli aspetti epidemiologici. Quali sono i numeri relativi all'obesità nel nostro Paese? Siamo abbastanza a metà di quella che è la percentuale a livello europeo, siamo sul 9,8%, con una mortalità purtroppo invece del 4,8% da questo punto di vista. Ci sono delle differenze, differenze legate al sesso, nel senso che è molto più incidente nell'uomo che nella donna, delle differenze riguardo alla regione. il Piemonte è messo bene perché ha un'incidenza che è del 5% e quindi decisamente inferiore rispetto a quello di alcune regioni del sud dove si arriva invece anche al 13% o 14%. Il fenomeno cresce anche con l'età e del 4-5% la sua incidenza nell'infanzia e raggiunge anche il 18% tra gli over 75%. Tutto questo ha importanti costi, diretti ovvero legati all'aspetto sanitario, ma anche indiretti come la perdita di produttività del paziente obeso in ambito lavorativo. Come si può affrontare questa patologia? Con la consapevolezza di ciò che l'obesità è bisogna cercare di togliere dal concetto dell'obesità quel manto ancora esistente di problema più estetico che clinico e quindi colpevolizzare chi ne è portatore di ignoranza o di cattive abitudini, eccetera. Bisogna prendere atto del fatto che l'obesità quando arriva a meritare questa definizione cioè indice di massa corporea superiore a 30 è uno stato patologico ed è una condizione che inevitabilmente, se non curata porta a una serie numerosa di complicanze importanti che vanno da alcune che vengono ingiustamente sottostimate come la disabilità osteoarticolare fino all'aumentata incidenza di certi tipi di cancro quindi si tratta di un problema reale il problema è come affrontarlo e il modo che dà risultati migliori nell'obesità è quello che venga affrontata da un team cioè in maniera cosiddetta multidisciplinare Il BMI è l'indice più utilizzato al mondo per la prima valutazione di screening della malattia ma non può essere sufficiente per dirimere le scelte terapeutiche in questa patologia complessa sempre di più si usa questo algoritmo che mette in relazione BMI, età del paziente e stadiazione della malattia a seconda della presenza o meno di fattori di rischio legati all'obesità con morbidità di tipo metabolico organico, psicopatologico o funzionale La giornata di lavori a Verbagna è proseguita con l'inquadramento e la gestione del paziente obeso nella sua complessità persone che devono affrontare anche una riduzione nella qualità della vita con inevitabili ripercussioni pure di carattere psicologico Quali sono le complicanze per questi malati? Sono tante spesso noi diciamo che il paziente obeso è come un libro di testo di clinica medica perché le complicanze interessano praticamente tutti gli apparati riguardano l'apparato cardiovascolare riguardano l'apparato respiratorio quindi complicanze importanti fattori di rischio e quindi che determinano una maggior mortalità nel tempo dall'altra parte esistono invece anche complicanze che sono di tipo soprattutto ortopedico e queste complicanze diventando gravi possono portare invece a importante disabilità quindi sono complicanze da un lato che mettono a rischio la sopravvivenza del paziente cioè accorciano la sopravvivenza del paziente e dall'altra invece che mettono gravemente a rischio la possibilità di condurre la normale vita quotidiana Qual è il modello di cura dell'Istituto Auxologico Italiano? Abbiamo messo a punto un sistema complesso che implica dei setting di cura a diverso livello a seconda della complicanza del paziente del numero di malattie associate che ha un livello è soltanto ambulatoriale uno è di riabilitazione semiresidenziale con dei percorsi di tre mesi con un team multidisciplinare che segue il paziente a Milano e un setting di riabilitazione residenziale all'ospedale San Giuseppe a Piancavallo poi disponiamo di una chirurgia bariatrica e quindi ci sono illustrati nel percorso di cura diagnostico e cura del paziente obeso quale caratteristiche deve avere il paziente per essere indirizzato a un percorso piuttosto che a un altro sono tutti molto collegati perché anche dopo il ricovero e le riabilitazioni i pazienti tornano all'ambulatorio e il team ha identificato degli indicatori comuni in modo da poter monitorare nel tempo se quello che sta facendo è efficace L'ultima parte del convegno è stata dedicata all'Auxologico di Piancavallo centro d'eccellenza per la cura dell'obesità grave noto a livello nazionale situato sulle alture del Lago Maggiore ha approfondito il tema dell'approccio integrato multidisciplinare alla riabilitazione in regime di ricovero dalla presa in carico alla misurazione degli esiti Perché occorre un lavoro a mosaico per questi pazienti? Perché l'obesità è una patologia cronica che ha tantissime sfaccettature tantissimi aspetti quindi per essere curata in maniera efficace occorre mettere assieme tutte le competenze da un punto di vista medico internistico medico ortopedico medico fisiatrico tutti i vari specialisti pneumologo, cardiologo, psichiatra le componenti psicologiche che sono estremamente importanti quelle nutrizionali quindi il ruolo dei dietisti il ruolo dei preparatori motori il ruolo dei fisioterapisti però tutte queste parti devono dialogare tra loro non è sufficiente che ciascuno veda il paziente ma poi alla fine bisogna arrivare ad una sintesi e un progetto di cura Quali conseguenze produce l'obesità sull'apparato cardiocircolatorio? L'obesità è uno dei fattori di rischio ufficialmente riconosciuti insieme a quegli altri più noti magari come il colesterolo elevato il diabete il fumo di sigaretta ma l'obesità vale più o meno altrettanto e quindi è da considerare un fattore favorente che aumenta il rischio di ammalarsi soprattutto di malattie delle coronarie quindi infarto e tutto quello che ne consegue ma anche di scompenso cardiaco che è quella situazione in cui il cuore non riesce più a fare il suo lavoro correttamente ed è molto molto frequente nei soggetti obesi Quali gli effetti dell'obesità sul sistema respiratorio? Quelli che sono più specifici sono legati al grande obeso e quindi all'insorgenza in maggior frequenza rispetto a un soggetto normopeso di quello che sono le patologie del sonno e le apne nel sonno poi c'è tutta la componente legata alla limitazione nella capacità dell'attività fisica e quindi nella limitazione dell'attività motoria in generale e poi legata proprio alla riduzione della capacità funzionale respiratoria e quindi una minore capacità allo sforzo in se stesso L'inquadramento del paziente obeso è fondamentale per impostare una dietoterapia e oggigiorno ci avvaliamo di alcuni esami strumentali che ci permettono di capire bene la composizione corporea e la consumo energetico a riposo su questo poi basiamo il nostro intervento per la composizione corporea usiamo metodiche che si chiamano bioimpedenziometriche e ci permettono di misurare rispettivamente acqua corporea massa magra e per derivazione massa grassa invece con l'esame calorimetrico andiamo a misurare con un test del respiro quante calorie quel soggetto consuma a riposo questi per noi sono dati importanti perché innanzitutto le calorie consumate a riposo devono essere garantite non è bene dare una dieta troppo restrittiva ad un soggetto sovrappeso obeso in secondo luogo la composizione corporea ci dà un'idea del nostro intervento noi miriamo non soltanto a far abbassare l'ago della bilancia i chili di peso in realtà potrebbero essere anche chili di acqua e quindi disidratazione o chili di massa magra e quindi deperimento il nostro obiettivo è mirare a far perdere al soggetto obeso l'eccesso di massa grassa che poi è quello il cuore del suo problema come lavora il dietista il dietista deve prendere in considerazione dapprima quelle che sono le abitudini del paziente per calarsi dentro la realtà da cui proviene il paziente dieta non intesa come prescrizione ma come cambiamento allo stile di vita e questo deve coinvolgere il paziente e la sua famiglia quindi anche un ambito sociale familiare la dieta sicuramente ipocalorica per permettere il calo di peso e poi una serie di riabilitazione comportamentale educativa che miri a potenziare i punti di forza del paziente e anche implementare le sue conoscenze teoriche sulla nutrizione Qual è il ruolo dell'area motoria? L'area motoria è uno dei pilastri del programma riabilitativo multidisciplinare bisogna ricordare che il paziente obeso è un paziente sia cronico che disabile è una duplice veste e questo diciamo giustifica in qualche modo la presenza nell'istituto di un servizio di fisioterapia appunto ma anche di attività motoria adattata proprio perché quest'ultima attività deve contrastare gli effetti dell'obesità che è una patologia cronica con degli effetti deleteri mentre la parte di fisioterapia diciamo specialistica serve a contrastare gli effetti delle patologie ortopediche cardiorespiratorie neurologiche che frequentemente questi pazienti hanno Quanto conta invece l'aspetto psicologico? è fondamentale all'interno di un trattamento per l'obesità a tutti i livelli oggi abbiamo presentato questo piano diagnostico terapeutico assistenziale come lo chiamiamo PDTA diviso su vari livelli ma che sia ambulatoriale semiresidenziale MAC piuttosto che residenziale attività ospedaliera quella che in particolare seguo in ogni caso è previsto l'intervento della parte psicologica la medicina viene dal paradigma dell'approccio biopsicosociale quindi l'approccio psicologico è fondamentale sia dal punto di vista della valutazione quindi c'è una parte diciamo così diagnostica psicologica per capire quante problematiche ci sono pensiamo solamente a problematiche d'ansio di depressione connesse alla condizione dell'obesità o a psicopatologie dell'ambito alimentare come può essere per esempio il classico comportamento da buffata alimentare tecnicamente chiamato binge eating disorder che diventa una complicazione su cui dobbiamo lavorare oltre alla fase diagnostica vi è poi la parte riabilitativa che può essere sia individuale e poi il lavoro di supporto di gruppo come avviene e quali risultati produce la misurazione degli esiti gli esiti in riabilitazione sono fondamentali per dare una evidenza quantitativa a quella che è la riabilitazione quindi è importante avere degli esiti che siano rappresentativi di diverse aree nel nostro caso specifico della riabilitazione della grande obesità è importante avere un'idea di miglioramento sugli aspetti metabolici sugli aspetti motori sulla qualità della vita quindi sugli aspetti psicologici sulle necessità assistenziali che derivano da valutazioni di tipo infermieristico e poi sicuramente un altro aspetto importante è la valutazione globale di quello che è il cambiamento che avviene durante l'adegenza che cos'è il follow up ambulatoriale il follow up è un modo per poter seguire i pazienti o una volta che noi li abbiamo gestiti che sono stati visti magari in regime di ricovero o regime di macroattività ambulatoriale complessa una volta che il paziente è stato dimesso deve essere riavviato ovviamente al medico di medicina generale ma il nostro istituto per esempio può dare una mano prevedendo dei periodici controlli che sono dei controlli ambulatoriali essenzialmente il convegno è stato organizzato da istituto auxologico italiano in collaborazione con ASL VCO Ordine dei Medici del VCO e Regione Piemonte ed è stato patrocinato dalle principali associazioni mediche che si occupano di obesità l'evento importante momento formativo ECM per gli addetti ai lavori si inserisce nell'attività di ricerca di auxologico che caratterizza gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico attività che va di pari passo con la continua innovazione strutturale nelle diverse sedi di cura l'istituto auxologico di Piancavallo è una realtà di rilevanza nazionale sia dal punto di vista della ricerca scientifica sul tema dell'obesità che per le prestazioni sanitarie che offre a tanti pazienti che soffrono di questa malattia in tutta Italia da 60 anni la sua presenza nel nostro territorio l'auspicio che possa anche estendere i suoi servizi e l'apprezzamento per oggi perché riesce comunque a dare il senso di un lavoro di ricerca essenziale su un tema che è molto in attualità nel nostro paese di un'esplosione di un'esplosione di un'esplosione di un'esplosione